Il Comitato per il Braga torna a protestare per la situazione della sede del Conservatorio di Teramo. Il palazzo storico di Piazza Verdi è infatti inagibile a causa del terremoto del 2009, ma non per tutti. Docenti e studenti del Braga sono stati trasferiti al Comi di Viale Bovio, ma fino al 30 giugno poi si vedrà. Intanto la segreteria studenti è aperta al secondo piano di Piazza Verdi, nonostante tanto di cartello sulla inagibilità. E al pian terreno le attività di altre associazioni continuano, non curanti del divieto posto dai vigili del fuoco. Ormai sette anni or sono. Presto tutto questo arriverà sul tavolo dei magistrati della Procura di Teramo. Intanto i rappresentanti del Comitato si dicono stufi di annunci, chiacchiere e valzer di promesse da parte del Comune di Teramo. E annunciano manifestazioni eclatanti nelle prossime settimane. Noi non commetteremo l'errore fatto un anno fa. Cioè noi non abbandoneremo mai la sede del Comi per le attività della scuola, fin quando non ci sarà un luogo alternativo, ma soprattutto un luogo adeguato. Quindi questo sicuramente non accadrà. Fermo restando che però questa situazione di incertezza va chiarita. E va chiarita una volta per tutte. Se non ci saranno risposte dall'amministrazione locale, dalla provincia, insomma, vedessero loro, perché ormai noi faremo altri passi. Dunque, vorremmo innanzitutto interessare il nuovo prefetto di questa situazione, così lo portiamo a conoscenza, che un ente statale deve subire questo tipo di discorso. Poi eventualmente avevamo già pronti l'anno scorso e ci siamo calmati un ricorso al difensore civico per un diritto allo studio che viene costantemente negato. E eventualmente poi potremmo anche prendere in considerazione qualcosa a livello di Procura della Repubblica.